Una festa, chiamiamola così, oggi nella sede dell'autorità di sistema portuale del Martirreno settentrionale. Il via dopo anni al bando per la costruzione della Darsen Europa. Darsen Europa è un bando per la difesa delle opere marittime e delle attività di dragaggio, quindi una delle parti più importanti e consistenti come finanziamento di questa grande opera che dovrà rilanciare Livorno nel campo europeo. Sentiamo subito cosa ci dice su questa opera qui il presidente Luciano Guerrieri. È una grande notizia che ovviamente ha dietro un grande lavoro perché oggi si arriva a fare questo passo dopo un lavoro intenso direi di anni. E naturalmente ci aspettano anche altri anni di lavoro perché la gara ci serve per individuare il soggetto che farà le opere per una nuova conformazione del porto che richiederà il terminal di 1.600.000 Tius che rappresentano la prospettiva del porto di Livorno, la possibilità a cascata di poter ampliare anche i traffici loro o comunque tutti quelli che Livorno ha come propri. Quindi è sicuramente un giorno importante, ci aspetta come dicevo un intenso lavoro, avremo ancora bisogno della collaborazione di tutte le istituzioni e faremo anche in modo perché quest'opera sia programmata, realizzata, portata avanti con i lavori nell'assoluta trasparenza e nell'assoluto rapporto con gli operatori, i cittadini, le associazioni. Ci diriamo disponibili quindi a illustrare, a recepire eventuali necessità che possano essere richieste, anzi che erano già state richieste e che possano consentire ai cittadini di seguire le cose che facciamo. Presidente, si parla di un bando che si aggira sui 400 milioni, il più corposo di tutta l'opera. Il quadro economico è 450 milioni, i lavori sono circa 390 milioni, è una bella responsabilità per questo abbiamo in corso di stipula un accordo di legalità, un protocollo di legalità con la prefettura, abbiamo fatto visionare all'ANAC il nostro bando e è sotto l'applicazione di un protocollo con le organizzazioni sindacali a livello nazionale con il ministero, in modo che ci sia la massima sicurezza. Sento, un'ultima domanda, non parliamo quando finisce l'Adelazione Europa perché dal 2010 a oggi sono stati fatti anni e anni di promesse. Diciamo soltanto magari questa prima fase se si può partire nel 2022 a metà anno. Dunque, io con la consegna dei lavori definitivi, considerato che deve fare anche la valutazione di impatto ambientale, penso intorno a questo periodo, ma nel mezzo dei lavori saranno comunque fatti come l'installazione del cantiere, la bonifica bellica, lo spandimento dei sedimenti sopra la vasca, quindi sono lavori, sono lavori importanti, quindi direi che si parte con i primi del mese del 2022, salvo che i lavori effettivi, quelli definitivi, saranno insegnati all'impresa dopo appunto questo periodo. Naturalmente non poteva mancare all'appuntamento anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, il è intervenuto perché anche per la città, questo è un passo molto importante perché la D'Arza Europa è la porta anche della città di Livorno. Due belle notizie in queste ore, la prima quella che è ricordato del bando che è l'inizio vero e proprio dei lavori, del percorso di lavori con il fatto che Luciano Guerriari da commissario può velocizzare al massimo. L'altra notizia è quella che abbiamo ricevuto proprio ieri sera della deperimetrazione del SIN, che è un altro passaggio che aspettavamo se vi ricordate dal 2003 e poi 2014. C'erano ancora questi 10 chilometri quadrati di mare che erano interdetti a qualsiasi tipo di intervento. In questo modo invece abbiamo la possibilità di una flessibilità maggiore che consente che il porto guardi ancora di più a mare e che si metta al passo con gli altri scali importanti europei per poter star dentro un sistema che rischiavamo di non vedere più e questo è assolutamente importante. Hanno fatto un bel lavoro gli uffici dell'autorità di sistema e gli uffici comunali con l'ufficio ambiente, una bella sinergia che ha dato risultati. Sindaco, però queste grandi opere hanno bisogno anche di grandi opere di vie di comunicazione. Io direi che forse uno sguardo va dato anche alla Tirrenica e allo scavalco con l'Interporto. Sì, noi abbiamo scritto al Primo Ministro, a Draghi, dicendogli che naturalmente la Darsena Europa e il porto di Livorno sono la porta sulla Toscana, però quando apri una porta dietro ci deve essere il corridoio, non ti puoi trovare un muro che ferma tutto. Il corridoio per noi è quello che ci porta alle reti TNT di livello europeo e per agganciarci con più forza serve collegarci all'alta velocità, serve che le ferrovie facciano quello che devono fare per facilitare lo spostamento di merce e persone nella nostra città e al retroporto. Sentiamo infine anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, una Regione che ha investito ben 200 milioni anni fa in questa importante opera. Eugenio Gianni, sentiamolo perché naturalmente è intervenuto per far presente che questo finanziamento della Regione per il porto di Livorno è ed è stato il più grosso finanziamento degli ultimi anni della nostra Regione Toscana. Livorno è la porta della Toscana, le vie marittime stanno assumendo a livello internazionale sempre più un rilievo fondamentale. È evidente passare da un pescaggio di 12-13 metri a un pescaggio di 20 metri significa dare a quello che è lo storico porto non solo della Toscana ma del centro Italia un respiro e una prospettiva di importanza fondamentale per un'economia che riparte. Oggi è il giorno in cui presentiamo quel bando che può consentire l'aggiudicazione fra 60 giorni della fase finale del progetto, la progettazione esecutiva e la conseguente realizzazione dell'opera. E io indubbiamente lo vedo come un momento storico. Era importante che vi fosse a presiedere un'autorità portuale, una figura come Luciano Guarnieri che conosce benissimo il territorio, conosce da un punto di vista amministrativo tutte le procedure. Avete visto, ricordo i titoli qualche tempo fa, le cozze bloccano l'iter, tutto è stato progressivamente risolto. Certo, dobbiamo passare dalla valutazione di impatto ambientale, da quelli che sono tutti i passaggi amministrativi per l'inizio dei lavori, ma insomma veramente io penso che quei 200 milioni che sono la cifra più consistente che la regione toscana in questo momento ha in un cantiere, possano nel complesso di un'opera da 450 milioni vedere finalmente una luce che diventa una prospettiva per tutta la nostra regione. Certo, oggi vi sono anche tutti gli elementi connessi e quindi lo scavalco attraverso l'asse ferroviaria che poi porti a Guasticcio e quindi a finalizzare l'interporto a quello che è il retro passaggio di ciò che sono le funzionalità di un porto, ma anche su questo ne abbiamo messo 20 milioni, 27 necessari. Insomma, per noi Livorno è elemento fondamentale per la Toscana dei trasporti, delle infrastrutture, dell'economia del futuro e quindi lo vedo quello di oggi insieme al sindaco Luca Salvetti come qualcosa che davvero può dare un respiro di fiducia e di speranza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.